Un cordiale saluto e un buon inizio settimana da Federico Grasso di Arpal. Quest'oggi una perturbazione spazza all'arco alpino e porta anche sulla Liguria tempo instabile. Dalle ore centrali infatti prevediamo cielo molto nuvoloso o coperto sul centrolevante e nubi irregolari apponente. Potremo avere temporali moderati e fenomeni grandigeni. Temperatura in diminuzione nei valori massimi diurni, che comunque saranno prossimi ai 30 gradi, umidità su valori alti, venti dal sud-est fino a moderati e rotazione da nord e a tratti forti alla sera. Mare da poco mosso a mosso, localmente molto mosso a Levante. Domani, martedì 17 agosto, avremo ancora qualche nube e deboli fenomeni residui nelle primissime ore della notte sull'estremo Levante. Poi la perturbazione si allontana e lascia spazio a correnti secche da settentrione che ci regalano una giornata azzurra e tersa. L'umidità sarà su valori bassi. I venti da nord fino a forti raffigati ruoteranno da ovest nel pomeriggio scendendo a moderati. Il mare sarà da mosso a poco mosso a Ponente, da localmente molto mosso a mosso a Levante. Le minime in costa domani saranno comprese tra i 20 e 24 gradi, nell'entroterra tra 12 e 19. Le massime saranno racchiuse tra 28 e 35 gradi. Dopodomani, mercoledì 18 agosto, avremo un'altra bella giornata di sole, appena disturbato da modesti comuni pomeridiani sui lievi di Levanti e da passaggi di nubi sottili in serata. Umidità ancora su valori bassi. Venti da nord, anche moderati, in calo fino a deboli. Avremo delle brezze lungo le coste. Il mare è poco localmente mosso, soprattutto a Levante. Temperature minime costiere racchiuse tra 20 e 25 gradi, nell'entroterra tra 16 e 19, massime tra 27 e 35 gradi. Ricordandovi che in dettaglio sul metro Liguria è consultabile sul sito www.arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook e sugli altri social dell'agenzia. Io vi auguro una buona giornata. A risentirci!